La leva direttiva e partecipativa ci arrivano gli studi dalle scienze delle organizzazioni che sia per i capi nei luoghi di lavoro ma anche nelle scuole possano contemplare un'integrazione perché la leva direttiva e partecipativa curano sia gli aspetti di compito, di produttività ma anche gli aspetti di convivenza e di socializzazione Il direttivo è la leva classica in cui l'insegnante prende delle decisioni in forma top down come viene denominata la partecipativa invece le decisioni dell'insegnante vengono come dire create dentro degli assi negoziali e di compartecipazione con la classe La didattica e la partecipazione sono ormai due frontiere fondamentali non soltanto la didattica che debba presidiare l'insegnante ma anche l'inclusione dei ragazzi coinvolgimento, la gestione delle relazioni tra sé e la classe Per quello bisogna saper modificare e mutuare il direttivo e partecipativo non sono polari ma sono complementari come dentro un continuum e lo vedremo, lo studieremo negli indirizzi di orientamento metodologico Ma il corso è anche pratico per cui proverò a sviluppare il monitor di calibrazione cioè quali sono i criteri per orientarsi una mattina in una lezione con una classe problematica una volta di più sul direttivo una volta più sul partecipativo i metodi di assertività e di autorevolezza che stanno alla direttività e i metodi di parola circolare, feedback e negozialità che stanno alla leva partecipativa Grazie a tutti Grazie a tutti